Proverò Allora, Grixis Come mai? Ma davvero ce n'è solo uno di tre mesi fa? Ma Bunt l'ho fatto ragazzi, è qua Bunt l'ho portato, me lo ricordo Che giocavo il lupo E la voice, si si, questo ci ho fatto risultato Con questo, sembra di averci fatto un 5 Grixis, non ho fatto niente di Grixis Mi sa di no, e allora proviamoci Ma Grixis contro lo midrange ragazzi Contro lo midrange Manda l'upcycle, la guardo Davvero, è vero, è vero Thomas, è molto carina Ma la tunnel è un po' perista Control Grazie per il follow Steel Steel skin, lo sapete chi è? È un personaggio di Final Fantasy IX Fantastico Fantastico Il mugori viaggiatore Grazie, grazie per il follow Grixis bolas Proviamo, allora Intanto mettiamo giù le basi del control The one ring She old red Perché anche se è control ci vanno dentro E orchetto Quindi La base è sempre questa ragazzi Non si cambia La base che vince non si cambia Base che vince non si cambia Poi andiamo a vedere il resto Io ho paura però che il rosso sia proprio uno splash Se andiamo a partire così Vediamo Se riesci a mettere Sauron diventi il mio eroe No, Sauron mettiamo questo Questo Questa la mettiamo Al che? È tornato È tornato, eh? Ecco il Pe, grazie mille di cuore Grazie Pe, grazie mille Mandato in consigli Grazie Pe Yuri tra l'altro mi ha mandato il suo Il suo Bolas Sto leggendo anche la sua lista, eh In consigli invece In consigli Eccolo qua Nicol Bolas Scrucias Disappear Bowmaster Steam Vance Toxies Shelly Snapcaster The one ring Xander Lunge Che cos'è? Che cos'è Xander ragazzi? Cos'è? Ho letto male Xander Xander Ah, è il Trioma Certo Infatti dicevo Ok Eh sì, sì Xander Scusate Allora io giocherei Toxa Non riesce a farlo Control Però secondo me Ragazzi Cioè se lo vogliamo giocare Control Allora lo giochiamo Simildimir Però allora Il rosso Deve essere davvero Qualcosa di incredibile Deve essere davvero Qualcosa di incredibile Il rosso Deve essere Fiamma di Anor Però Fiamma di Anor A che cosa ci serve In realtà Per pescare due A instant E allora Uso Sauron Ramson No? Vediamo Vediamo Eh sì Eh Beh abbiamo Snapcaster Abbiamo Snappo Andiamo a giocare Push Per forza Ah abbiamo già messo In tre però Edict Yampyro Per pescare due No Non posso giocare Ah no No scusate C'è una carta rossa Che possiamo giocare Però no C'è dentro il blu C'è No C'è dentro il blu Sì Scusate Questa Ah questa sì Questa è forte E poi Prismari Eh ma Prismari In questo Meta Fa un po' Schifo Prismari In questo Meta Fa un po' Schifo Eh ragazzi Cioè Si gioca in Dragon Storm E basta Ormai Eh Seven encounter Abbiamo messo solo Due ionize Andiamo a mettere Dentro Il counter a due Per forza Che è Non mi ricordo mai Come si chiama La gioco in tutti i mazzi Quella lì Make Disappear No Carn Va giocato In tricolor Specialmente Perché È più facile Andare a prendere Della side Che ci serve No Ciao Bittai E dopo facciamo E dopo facciamo L'altro Shot out Al buon Bittone Grande Bittone Ivory The one Crypt Sempre È sempre Lo stesso Ormai Devo mettermi Una lista Solo per Carn Credo E Liquimetre Silex Silex Needle Pit in needle E Vur Coil Credo Allora Una vratta Eh ma quale giochiamo Quattro Cinque Perché Ovviamente Di vratte Si deve giocare Quella rossa Il problema È che se poi Andiamo a giocare No Perché rampage Non dice Non dice Token Dice solo Creature Ed è sorcery Ragazzi Molto meglio È ditto No Broderudend Non possiamo Giocarla In questo Controllo Ragazzi Non si può Giochiamo gli snappi E gli orchi Non possiamo Giocare le vratte Se giochiamo Una vratta Dobbiamo giocare Solo le chandre Solo chandra Se vogliamo Mettere il rosso Per davvero Dimme no Non l'ho Non l'ho Non l'ho Proprio Visto Urobrask Forge È la Forge A tremana È quella Che ti spaa Una creatura No Non va bene È troppo lente In historic Rischi di morire Da mago Sempre Lenguish È lo stesso Motivo Ragazzi Snapcaster E orchi Scusami Dimme Siete in tanti Faccio fatica A leggere tutti Secondo me Dobbiamo andare A mettere dentro Narset Ma non c'è Un planeswalker Bianco Rosso Blu Bello Potremmo giocare Anche questa Molten impact È tempo strega Purtroppo Allora piuttosto Vado a giocare Electrolisi O O il charm Nuovo Il charm Nuovo Il charm Nuovo Forte il charm Nuovo Questo è forte C'è anche questo Cosa fa? Ah Non è brutto Ok E poi Questo? No Questo no Vero? Piuttosto giochiamo Una spell blu Allora Piuttosto di giocare Questo Prince Walker Ha Pesco scarto Ah Royal Shions Questo qua No Royal Shions È forte Ma non siamo A quel punto lì Dobbiamo mettere Davvero dentro I Bolas Il Bolas Possiamo giocarlo Però È intensive Come mana E non è flash Eh ma è un drop A due Ragazzi Non possiamo Permetterci di giocarlo Bolas L'unico Bolas Forte di questo Gioco Questa Orchetto C'è Ragazzi Qua Manca Crucios Togliamo Uno Snappo Togliamo Un Ramson Togliamo Quante terre Siamo 24 Vero Sì No Il Nicol Bolas Creatura Non mi fa Troppo impazzire Sono sincero Secondo me Ci siamo Ragazzi Tascia Ah la Place Walker Bravi Bravi È bellissima Tascia Bravi Via fiamma di Anor Non ci serve Bravi Giochiamo Un charm Mettiamo Liliana Forse Non mi sembra male Questo mazzo Cioè Magari farà schifo Però Adesso andiamo a mettere Le terre No Ertai ragazzi In historic Non bellissimo Non è bellissimo In historic Andiamo a mettere Le terre Allora Vogliamo Il trioma Due Poi Due Islet Quattro Steam Vance Due Riff No Non è vero Forse voglio il canale Che è Basso di costo Questo coso Canale Sicuramente Poi adesso andiamo a mettere Dentro il main color Due di queste Quattro di queste Un monte Fato E basta E il Colore Secondario Che è Nero Blu Forse non è secondario Poi vado a vedere Le percentuali giuste Quattro Watery Una di questa E una di questa Allora Poi andiamo a mettere Le animabili Rusco Dite 11 25 7 Quindi il main color E il nero Main color Main color Fiery Fiery Islet Una Steam Vance Va bene Canale Una Si Però il main color È comunque il nero Quindi cliff Una Questa diventa Takenuma Poi Rosso Blu 3 Steam Vance E questa diventa All of the store Giants Sto pensando di togliere il trioma Sto pensando di togliere il trioma O la canale Per andare a mettere dentro La seconda cliffs E la seconda shores Però per fare questa cosa Devo togliere anche Io tolgo Io tolgo Io tolgo i triomi ragazzi Io non credo che salva il trioma Mana confluence è un'opzione ottima Però se gioco le mana confluence Devo togliere Le islet Si Facciamolo Sono più tranquillo Sono più tranquillo Ci farà malissimo Ma Ci sta Ti ho mandato Aspetta che mi si è bloccata la chat Ti ho mandato Un mazzo che quando di tempo Devo riguardare su decklist richieste Datemi tempo ragazzi Arriva tutto Sono un po' incasinato Ma arriva tutto Perché la ricerca di arena fa schifo Due confluence E ci siamo Eh quello si è un po' complicato Come video da realizzare di me Perché io lo faccio molto a memoria Guardando le percentuali del mazzo È molto complicato distribuire Poi tipo qua Vedi che c'è un 19% Dovrei abbassare un po' incasinato Dovrei abbassare un pochino il rosso Dovrei abbassare un pochino il rosso Perché di rosso Ne ho una Due Tre Quattro E devi fare il totale Quattro su venti Più due mana confluence Sono sei su venti E vai a fare la percentuale Il blu è Il 31% E ne abbiamo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unici Dodici Tredici È già di più Vedi E poi c'è il nero Che sono Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Vai sul Vai più o meno sul rapporto Io sono abituato a farlo a mente Ma perché sono abituato Per abitudine Esatto L'ha scritto giusto Marco Esatto Esatto Poi fanno eccezioni Le animabili E le animabili Sbiellano un po' Però Più o meno è così Più o meno è così È giusto Quello che ha scritto Marco E non so se voglio giocare Castello Nero Ragazzi Forse no Proviamolo così Proviamolo così Però è un È un video difficile da realizzare Perché Non sei mai precisissimo Nelle parole E dovrei proprio avere Esatto Che mandano tutto in vacca Esatto Dovrei avere sempre La calcolatrice sotto mano Per farvelo giusto Luca come mai usi 23 terre Non 24 in mono B controllo Perché in mono black gioco Castello E ho una curva che finisce a 5 mana Con invoke despair E non finisce a 6 E quindi la 24esima Non serve E poi giochi 3 peschini Anche Che sono i sin in blood E quindi in teoria Tu dovresti Avere le terre giuste Con 23 Adesso devo andare A rivedere la lista Però mi sembra Che sia giusto Quello che ho detto E poi C'è anello Poi C'è anello C'è carne Quindi è il modo Per far vantaggio Proviamo questo Grixis Vediamo se è un disastro Electi O electi Keep Siamo fixati con il mana Abbiamo doppia rimozione Per gli aggro Se arriva la terra Andiamo a fare anche Ramson Che ci fa vantaggio Il nero c'è E siamo super fixati Ragazzi Cosa vi devo dire Andiamo a sedia Vai Vediamo cosa fa Se fa pezzo Faccio Ramson No Non questo pezzo Però Questo no Questo lo counteriamo E ti facciamo male Sì Vai Eh ma Sabo Va Va a caso Va molto a caso Tra l'altro se faccio Reverse Pacco Resplendent Con Nicole Bolas Che bella mano Che avevamo Ma perché mi da tre carte Ma pazzo Tre carte contro una Shelly No No Opponente Ma tre carte contro una Shelly Ma Ma scusami Ma tre carte contro una Shelly Ma dammi Shelly Vai 2-2 GG 1-0 Ma che paura Che fa Sheholdred Ragazzi Tra l'altro sei life gain Non dovrebbe fregartene niente Di Sheholdred Ho poi innamorato di te No 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 Ah no no Non ho aggiornato le boost Ragazzi Siamo a meno 63 Perché prima abbiamo fatto 7 Meno 63 Non me lo dimenticherò costantemente Meno male che poi c'è C'è Assistant Che mi Che mi ricorda Ehi No guarda che il numero è sbagliato Grande Nigmone Grande Nigmone Shoutout subito Ho parlato bene prima di te E lo rifaccio Andate a seguire Enigma La bolliera E tutto quello che ci gira attorno Ragazzi E' bravissimo E' veramente bravo Ed è appena stato citato Anche da uno streamer di successo Perché gli hanno copiato una lista E lo ha giocato questo streamer di successo Quindi è stato tanta roba Grande Nigmone Persona piacevolissima Mansecchi Più o meno la stessa cosa di prima Ma qui ci facciamo molto male Quindi keep E vediamo quanto ci facciamo troppo male Ok Enchantment Credo Quindi Brutto brutto Match up per noi Però Possiamo vincere di Possiamo vincere di lui In realtà E adesso noi andiamo a fare Crucius che scarta Mana Confluence E' vero Ci esponiamo un po' Perché potevamo restare open Di Unites Ma Secondo me non è male Questa cosa qua Ma figurati Phantomius Ma no 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 Non ringraziatemi ragazzi Mio piacere Davvero Vabbè qui andiamo a scartare Questo per forza Boh io lo appoggio ragazzi No Non è vero Qui io resto open Di Counterspell Perché tanto Lui muore dal mio Crucius Se il mio Counterspell colpisce Quindi In realtà Posso Semplicemente aspettare E chiuderla poi Di Shelly E' per forza E' per forza E' per forza E' Sitis E' sitis Sì abbiamo Shelly Sti cazzi Sì 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 Fallo Peschi Peschi un botto E poi noi ti Ti blastiamo Tre mana Li abbiamo no? Decisamente sì Vai Scartiamo Crucius Allora Oppo non è messo bene Finchè abbiamo Ionize Che counter Giusto E anche questo Orchetto in realtà E' tanta roba Questa la andiamo a scartare Però Non abbiamo una carta Che costa di più di 4 Perché ce l'abbiamo in mano Vero? Phyrexian Unlife Ah no Ce n'è un altro Bravo ma intanto no E ti pigli danni Da Shelly Grazie Scusa ma Ionize ti fa danno? Scusa ma Non dovrebbe farti danno Ehi Leiline Ah però non dice Effettivamente target Ah ma lui Si è appena suicidato? No Si è un'altra Phyrexian No Però questa è leggendaria Quindi che cacchio L'hai fatta affare Ah sì sì Si è appena suicidato Beh abbiamo battuto Phyrexian Alive ragazzi Con una facilità tremenda Ciao Oh stravinto anche questa Non targetta Non targetta È vero Dice controller Ok Non me l'aspettavo Di vincere così Non me l'aspettavo Ah ragazzi Giusto per info Prima che me lo dimentichi Di dirvelo Domani la live è al mattino Domani la live sarà Per le 9.30 Barra 10 del mattino Fino a mezzogiorno Che poi faccio il pomeriggio Una rara È Grixis control Yuri Non è control È mid Non è proprio control È mid Colazione da Baina Eh ma non c'è lo chef Deve esserci lo chef Per fare la colazione Di lusso Sherry Deve esserci lo chef Se non c'è lo chef Se non c'è lo chef Cosa facciamo fare Allora ci mangiamo Un cornetto Del 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 fornaio Ma C'è uno chef Anche per la colazione Ormai Kipperoni Un tap out control Non lo so Non lo so Che cos'è E bisogna vedere Tra l'altro se andrà avanti Così Perché non è mica detto Mono white affo Con Gingerbrute Hold the glitter Glass casket Ciao Hold the glitter Ciao Quindi puntiamo tutto su Shelly Che non abbiamo il secondo Mana nero Male Gingerbrute 17 Secondo me moriamo Contro aggro Qui Se non peschiamo due Removal di fila Secondo mana nero Arrivato Però Ci farà male Quindi Anello Shelly Deve essere la nostra salvezza Se lui non top deck Un'altra amici Con un'altra Hold the glitter Per lui Grande gateway Grande Ci sta Non voglio andare a fare Confluence qui O forse si No Posso farla dopo Così prendo un danno in meno Vabbè Abbiamo perso Se ha hold the glitter in mano Su questo non ci piove Però se non ce l'ha Ci fa un po' male L'automaton Però siamo vivi Siamo vivi Non fa glass caschetta vuoto Per farci un danno in più Qui noi facciamo time walk Senza prendere danno Da mana confluence È una buona pescata Quella che abbiamo fatto Ma Voglio fare questa cosa qua Forse era meglio fare questo Perché se Potevamo spaccare lo skirge Effettivamente Però Pervediamo Non lo so Se Shelly Ci tiene in vita Un paio di turni Eh potremmo aver sbagliato Però Forse dobbiamo fare Bowmaster qua È invece andata bene C'è sempre Il problema Hold the glitter Che incombe Però perché Purtroppo Lui vola E lui è imbloccabile Vabbè Dobbiamo fare Shelly Dai Andiamo a 11 E poi saliamo A meno che lui abbia rimozione Se era il mover Siamo paurosamente morti Ragazzi Sono due ottime pescate Però questo è in ritardo Perché poi arriverà Tardi tardi Se lui ha hold the glitter Credo sia finita Entro in full control Per sicurezza Vediamo Vediamo Non lo so Vediamo Vediamo Ah o comunque Mono white Affo In tier list Siamo stati cattivi Abbiamo detto che Non ti basta un amicico Abbiamo detto che Era sceso Ma in realtà la gente Lo sta continuando a giocare E fa sempre il suo Per fortuna amicico È la spell più sbagliata Che potesse fare Perché Hold the glitter Era molto più forte Qui Ci fa 10 danni Ma poi muore Perché poi gli facciamo Bow master Push E bow Non so se ce la fa Riprendersi lui Oddio Noi dobbiamo ricordarci Che Mana confluence Ci fa male Assolutamente Yuri Assolutamente Nel rispetto Degli altri E delle opinioni altrui Basta sempre Solo essere educati Poi qui Le opinioni Sono sempre ben accette Anzi Mi piace molto Discutere a riguardo Stiamo a 8 Pesco Stiamo a 10 No Yuri Allora Qui stiamo open Secondo me Qui stiamo open Anche di doppio orco Perché posso fare Crucias Ma io voglio stare tranquillo Avere più removal Possibili E Faccio probabilmente Terra stappata Addirittura Prendo due danni Perché voglio Tutto il nero possibile Vai Scartiamo Cliff Cliff E non ci serve All Secondo me In questa partita Adesso Sul target Facciamo Orco Vediamo cosa fa Orco numero 1 E orco numero 2 Facciamo In teoria Con orco numero 1 E orco numero 2 Vinciamo questa partita In teoria Poi può succedere di tutto Grande 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 Mi fa piacere Yuri Allora il primo orco Ha fatto il suo Il secondo Vediamo Rivelami Cosa 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 prendi Va bene Davide Spero di saperlo giocare Però Non è mica detto Però spero Vediamo Ornitottero Beh noi ce ne freghiamo Di ornitottero Ragazzi Cioè adesso facciamo Removal Su ginger brute E tutto il resto È una roba Un po' così no Sì Sì Tanto poi facciamo Ancora anello Glass casket Sul mio orco Ok Va bene Ma come sul token Ma perché sul token Perché non torna Boh Vabbè Posto così Vinta Se non Top deck All dead glitter Su ornitottero Ma in quel caso Rimaniamo open Di rimozione Io non ho molta fretta Sinceramente A parte il fatto che Potrei anche giocarla Qui la push Ma Vabbè stiamo in sicurezza Dai Non voglio esagerare Stiamo in sicurezza Facciamo così Buono Adesso abbiamo vinto Perché abbiamo Counterspell Grazie Sherry Sì Mi serve proprio Mi serve proprio Monte Combat Combat Ma se faccio Varatta Ah non posso ancora farla Un turno ci manca Boh io faccio Faccio combat Perché Posso fare combat Faccio combat Ok E allora Crucias E allora Crucias E abbiamo vinto Perché adesso Andiamo a togliere La blood crypt Siamo open Di counterspell Lui non ha più Soluzioni Secondo me Pesca una carta Turno Non è lo scartiamo Vai Mono white Non dovrebbe avere Soluzioni Almeno Poi oh Può succedere di tutto Se non fa una spell Facciamo due ditti A post GG Bella partitella Questa Abbiamo rischiato Poteva avere Una mano molto più Cattiva Nei nostri confronti Per fortuna Avevamo Scarto AT1 Ce l'ho Era partita Diversissima Dovevamo inseguire Tutto il tempo E Nello Non era così Safe Vai Fox Grazie mille Per il follow Fox OP Quindi Volpe Overpower Grazie mille Wolf tribal Muri trivale L'abbiamo già trovato Quest'uomo Kip In questo mazzo Conviene In questo caso Conviene partire Di questa Altrimenti Sarebbe partito Di questa Però siccome Abbiamo doppia fonte Di mano a blu In mano Partiamo di questa Utopia Veto Vrenda Blin season Even Utopia Perché tanto Di secondo Abbiamo orco E non C'è la counter Aveto Siamo cimale Questo dentro Così ogni Ogni pescata Ogni pescata che fa Prende pizze E se si tappa Fuori di quarto Comunque abbiamo Doppio anello Se ci fa una Veto Usa due Mana importanti Vediamo Vediamo cosa Si è inventato Quest'opo Che sembra avere Un bel mazzo Con Dublin season Ok Shelly è una Buona pescata Di questo gioco Vai Turno cruciale Qui Se lui sbaglia Non rimane open The one ring Dovrebbe vincere Questa partita A meno che sia Un combo Lui che io Non sto leggendo Bellissima Pescata Di magic Bellissima Pescata Di magic Combat Allora Noi non vediamo Counter su creatura Shelly Vai O fa Vratta Con doppio bianco O è sulla luna Vediamo se ce l'ha Eh Si è mandato noi Mi sa sulla luna No Perché si è tappato Un mana importante E quindi possiamo Fare anello Però questo Dublin season Io ho paura Che lui ci faccia Qualche scombata Io ho paura Che lui ci faccia Qualche scombata Lui lo appoggerà Adesso che non abbiamo Counter Però Ah no A meno che Aspetta No Ha sbagliato No no È molto meglio Sauron Ramson Ha sbagliato qua lui Però Vi spiego perché È vero che Aveto Ma io Lui non sa che noi abbiamo Counter spell nel mazzo Ok Quindi noi abbiamo Doppio counter spell Adesso Lui cercherà in tutti i modi Di fare Vren Per fargli scombare Con Dublin season Ma noi abbiamo Più counter di lui In questo momento qua Forse il combo Conta Mio Ah col 3 topi Può essere Purtroppo per lui Abbiamo doppio counter E quindi Questo Vren Quanto meno Non risolve E poi dobbiamo andare A fare il nostro vantaggio Che lui si tappa fuori Eh capita Capita parecchio Che succedano Quelle cose lì Con Cerbelcher Secondo me ha perso lui Cioè ha perso Ha troppe poche risorse Adesso no Noi possiamo appoggiare Crucias Possiamo pescare Di anello Non lo so Magari vince lo stesso In qualche modo Che io non conosco Eh Però Al momento Questo Crucias Che mi tiene open Di counter spell Mi sembra buono Mi sembra buono Poi oh Chissà Vediamo È il momento cruciale Adesso È il momento cruciale Infatti è entrato È entrato Crucias Vediamo se ha counter Più win condition In mano Possono succedere tutte Utopia l'hai fatta Hai talmente tanto mana Ormai Puoi farne mille Di Utopia Van Turbo Fog Sindax forse Ma ha fatto un lupo? Ah ma ha fatto due lupi Con questa Certo Noi abbiamo paura Di due lupi? No Certo che no Certo che no Anche perché poi Non ne ha più Noi peschiamo Troppe carte Adesso Vabbè ma mi dai Orco Vabbè Allora Pesco Snappo Bello Snappo Bello tanto Snapcaster Terra blu Stappata Push Push Sono a 4 con The One Ring Ma sti cazzi Lo facciamo dopo Dentro di Crucias Passo Questa Maggiore Scarto Scarto Vai O ci fa 4 danni In counterabili O abbiamo vinto Abbiamo vinto Mi sa Mi sa eh Poi boh E' fortissima Sauron E' devastantemente forte Devastantemente forte Carte nel mazzo 29 Pesco di anello Faccio anello Tengo anello Vuoto 4 mana Open 5 mana Open Vinta Non so Però Imo Mai Che combo Era Secondo me Lui Semplicemente Fa tanti token In modi Forti E cerca Di vincere Di quelli Va bene Chi è che gioca Monospell Pierce Egridi Brutto E' come quando Ti prendi nei denti Mana tight Zio pera Successo anche Tante volte A me Presente Enigma Subito Così Mi ho fatto morire Da ridere Grandeni Grandeni Anche Scalding Pensa a te Vai 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 Siamo contro Il signor O la signora Brando Silenzio Scusate Bando Non Brando Vero 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 Ma poi Uno perso Sempre delle tech In questo gioco Alla fine Ci stanno Sempre Secondo me Basto che Non siano fuori Dal mondo Ci possono Stare Sempre Eh per ora No Marco Però aspettiamo Non siamo ancora Premio Vediamo se Bando Gioca Se non mi è Crashata arena Speriamo di no Altrimenti perderemo In automatico Se partono i suoi timer Sono più contento Vediamo Non so Non so cosa vuol dire Quello che ha scritto Sherry Ragazzi Però i suoi timer Non partono È meglio Rifresciare arena Io provo a Rifresciare arena Ragazzi Per sicurezza Per sicurezza Ciao Alastor Eh lo so Psyco Però non vorrei Sai I server di arena Sono sempre Un po' Particolari Era Ban turbo fog Grazie Syndax Grazie mille Per aver controllato Per noi Grazie Sai che non so Se era lui Ragazzi Forse ero io Beh la mano Schippa È bellissima La mano è veramente bella Siamo un po' male Ma è bella O no Ok Mi era rimasta la barra di windows Stavo già impazzendo Andiamo a 16 Doppio orco Doppio orco È un problema Però d'altronde Abbiamo tascia Abbiamo tascia E uno lo si può Counterare No Tolgo comunque Un orco Perché Forse questa Arriviamo a Counterarla meglio E non è detto Che lui faccia orco Subito Anche se siamo Tappati fuori Magari lo tiene La tier list L'hai fatta uscire Da qualche parte Esce Tra qualche giorno Sul tubo Ragazzi Andiamo a farci male Però siamo obbligati Qua ci farà male Con l'orco Ma poi dobbiamo Dobbiamo gestirlo Mi sa che moriamo Qua contro Rakdos Ecco Terra tappata Forse no Forse terra tappata Ci fa ricredere un po' Vediamo E che andiamo Bassi bassi Così Ah vabbè Dobbiamo puntare Tutto su tascia Tutto su tascia Se lui ha pescato Il terzo orco È mio padre Se lui ha pescato Il terzo orco È mio padre Potrebbe avere ditto Il terzo orco Potrebbe avere Qualsiasi cosa Potrebbe giocare In full control Con a braid Non fare shell Piuttosto fai anello Una dinastia Di giocatori Di mtg È mio padre Siamo morti Perché se fa terra Poi fa invoke Despair E ci ammazza Tasha E quindi È finita Però Devo farla Per forza Perché Cosa faccio Snappo Che ciampa E teniamo Counterspell No Rischiamo Dai Rischiamo Rischiamo Che se per caso Non ha davvero Terra in mano Questa Gli mangia Tutti i suoi pezzi Che comunque Non possono attaccare Quindi in teoria È quasi un Simil time walk Quasi Eh potrebbe Ma secondo me Ce l'ha Secondo me Ce l'ha Ma se non ce l'ha Se non ce l'ha Boh Eh sì davvero Sherry Beh vediamo Non è ancora finita La partita Guarda che Tasha Un po' di scacco Gli lo mette Nessuno si aspetta Tasha Giocando gli orchetti Be sick the mirror Per removal Su Tasha E poi ti dimentichi Che Tasha triggera Lo stesso E muoiono due orchi Sarebbe fantastica Come cosa Sarebbe fantastica Ha preso una spella Cinque o più Fantastico Per noi Fantastico Per noi Che abbia preso Una spella Cinque o più Qua Vai Rest open Vinco Con la ulti Di Tasha Eccomi qua Un mio parere Non condivisibile Questo Quali possono essere Secondo me Historic Soprattutto Explorer Giocare i mazzi Top tier È buono Perché come ho già visto Da tre espansioni A questa parte Non scendono molto di tier Anzi rimangono Di solito Nello stesso tier Con l'aggiunta Di qualche carta Sì Sono casi come Belcher Che entrano in tier Magari basso Ma comunque sì Ma no È giusto Quello che stai dicendo Yuri Perché dici che ha un'opinione Non condivisibile Io condivido È giusto Più o meno Salvo rivoluzioni Grossi del meta Guarda che si dimentica Guarda che si dimentica Dai bando Dimenticati Non ci dimentica Sì più o meno Sì più o meno Non è sempre vera Questa cosa Beh io sono open Ragazzi di Yonize Questa gliela faccio Voglio vedere Che cos'ha Voglio vedere Che cos'ha Push a braid E doppia invoke Despair Push Dovremmo aver vinto Dovremmo aver vinto Attenzione Via Dovremmo aver vinto Ha preso la seconda Invoke Sì E io qui Faccio questa Mi sembra che abbiamo fatto Una buona giocata Mi sembra eh Andiamo a prendere Orchetto in cima Cioè nelle prime 5 Siamo open di Snapcaster più Counterspell Vai La terra non arriva Di Brando Siamo a premio Battuto anche Rakdos Siamo a premio Però là ho poco da dire Per ora ho poco da dire Su questo mazzo Eh sì Per chi Per chi è riuscito Ad entrare in legacy È giusto Per chi deve entrarci È la follia Marco Purtroppo Costa troppo Ne stiamo giocando Uno Mane Uno solo Mono bianco C'è anche Prison Mono red Che non costa tantissimo Rispetto al legacy No Quello che ha fatto Ha vinto un mondiale Una volta Ha vinto un cinquantenne Tra l'altro Il tempo Adesso non mi ricordo Se è prison Mono red Ma comunque Quello che gioca Contro jagger Che gioca Blood moon Io la rischio On the play La rischio On the play La rischio Quello che gioca Blood moon Calice del nulla Eccetera eccetera Scarto Jagmoth combo Via rampante O Jund Quindi sempre Via rampante Comunque Lui pensa che siamo Ragdos E invece siamo Grixis No Jagmoth davvero Mi sa Che belli tre pianeti È vero Non mi è mai capitato Beh Qui allora Andiamo a fare Crucius Scartiamo Una Shelly No Non ho niente Che costa più di Bolas Quindi Vabbè Dovrei Scartare Shelly Verso il basso Va bene Ah però Aspetta Posso scartare Ramson Per andare A prendere Anello O Karn Va benissimo Però se lui Scomba Scomba Lui è Jagmoth Ragazzi E Jagmoth Non è un bel Match up Per noi Non è un gran Bel match up Tuxis È una gran Bella carta Ma Jagmoth Non è un bel Match up Lui ha orco Senza dubbio Senza dubbio Fa orco E mi ammazza Crucius Karn No Allora Il problema È che se faccio Carne Lui mi fa orco Karn muore E mi prende Un anello Che non so Se giocherò Mai Perché non ho Il mana di Crucius Eh ma Dobbiamo Rischiare Dobbiamo Rischiare Cioè Lui ha orco Che bello Jagmoth Che è l'unico Combo Davvero Che ti mette Una pressione Addosso Ragazzi Da agro Puro A me piace Un casino Siamo morti Eh Questa è finita Questa è Non è ancora finita Però Gli basta una corda Una Company Secondo me È finita Dai Finita No Non è vero È finita Anche Silex Non ci risolve Questa partita Jagmoth È fortissimo Ragazzi È fortissimo Jagmoth È veramente Forte Veramente Forte Acerro Perché Ce l'ho Già L'ho Già Giocato Tante Volte Jagmoth L'ho Già Giocato Parecchie Volte È Molto Molto Forte Guarda Acerro Se vuoi Ti mando Il video Che ho Fatto Su Jagmoth Uno Dei Mazzi Più Belli Secondo Me In Historic Se lui Sbaglia Non ha corda Della convocazione In mano Muore Da Silex Ma secondo me Lui ce l'ha già E ce lo mette In quel posto Però Farlo Non ci costa Niente Aspetta Però Il problema È che Lui si lascia Jagmoth Così Eh vabbè Dobbiamo farlo Per forza Sacrificherà Il risposta Immagino Per forza Per forza Eh Moriamo Sì Yuri Certo Tieni caro Tieni caro Non abbiate paura Di chiedere Le presentazioni Gli streamer Ragazzi Soprattutto A me Per dinci Che cerco sempre Di aiutare I piccolini Anzi Ditemelo Guarda Streamo Da poco Ti supporto Mi dai Una mano Certo Bombardamento Forte Sì Contro di lui Sì Ma ormai Ha vinto lui Qua abbiamo Sempre perso Questa è Sempre persa Secondo me Lui ha fatto Troppo bene La sua mano Ancora Ciao Dime Grazie mille A te Grazie mille Saluta il bimbo Vabbè Yuri ma si parte Tutti così Si parte Tutti così Beh siamo morti Non penso che mettere Shieldert Basti C'è un altro Orco Riprende Sono lì Per concederla Ragazzi Anche perché Basta che appoggi Un pezzo E ha vinto Che è A patra Sì A patra Ha vinto Yuri ma non giocavi Anche maghi In stream Non so perché Ho questo ricordo Grazie Bittone Grazie Bittone Grazie mille Bittone Mi tieni fresca La gola In keeper Dai fai a patra E hai vinto No Non ce l'hai Ok Non ce l'hai Ancora Ah ecco ecco Mi sembrava Yuri No Solo per Non essere Matto con la memoria Vabbè ma va a fare Corda della convocazione E vince Perché tanto fa In keeper Gli fa vita infinite Finita Eh ci sta Dopo un po' Giocare sempre Lo stesso mazzo Annoya Ci sta Ci sta Ci sta Purtroppo ci sta 5-1 Yagmoth Sempre bellissimo L'unico combo Che dico Cazzo che bello Sempre Ed è Golgari Cosa non da poco Tra l'altro Che il verde Sappiamo tutti Come è messo Su questo gioco Stavo pensando Di vedere un possibile Boros Barn Potrebbe essere Fattibile Guarda Non so se è forte In questo momento qua Ma io una lista Te la mando Quella che giocavo Te la mando Che poi Cioè Una cosa che mi fa Molto molto stupire È che adesso Basta scrivere Il nome del mazzo E il mio nome Su youtube E ti trova subito Il mazzo Che facevo io Quindi Ragazzi Quando vi servono Le liste Andate a vedere Anche queste cose qua Non per le mie visualizzazioni Una visualizzazione in più A me non cambia niente Quindi non lo sto dicendo Per quello Sto dicendo Perché se volete Vederlo Quanto meno prima Basta fare così Questo è un keep Questa è bella Questa è una mano da control Ci fa molto male Ma è una mano da control Questa è proprio Una mano da control Keep Vediamo se Oppo fa qualcosa Vorrei togliere L'overlay di untap Ed è lì che non serve a niente Di assistant Ma Penso sia buggato Ah sì Mago Questa mano contro Maghi Se non fa un drop Che rischio ragazzi Che rischio Il problema è che poi Il drop a due lo fa Non è una bella mano Contro Maghi A meno che abbia Proprio una mano di fango Adesso Abbiamo trovato Maghi Nell'esatto momento In cui non abbiamo rimozioni Ma lui Non ha Lui non ha Niente in mano Via charge Subito Fammi due danni Tanto Sì fammi due danni Che così Il drop a uno Che magari top deck Non è rapido Intanto Dobbiamo stare molto attenti Alle nostre terre Però eh Motivo per il quale Poi facciamo isola Ma non è un po' folle Tenere quella mano Eh sì Non ha voluto mal ligare A 5 No Ha tenuto a 7 Sì un po' folle E infatti è morto Siamo a 6 Bene Bene Molto bene Molto bene 6-1 Molto bene Eh un po' sì D'altrondi In Maghi I Maghi Sono sopravvalutati Pagato Sir Fortes Sì Maghi Barn Nel senso che Si è bruciato da solo Good Rock Sta andando un po' di culo Con questo Grixis Abbiamo battuto Ragdos Ragazzi Abbiamo battuto Ragdos Boh Forse è forte Comunque ha Delle ottime partenze La curva di mana È distribuita Perché abbiamo Solo un drop a 5 Gioca dei counter A 2 Barra 3 Le removal Più forti del formato Le ha Anello A scegliere Orchetto Secondo me È un buon mazzo Sì Sì Yuri Sì Assolutamente sì Sirius Serpo Poi magari si ferma qua Il mazzo Però Ha girato molto meglio Rispetto a come Me lo aspettavo Eh vabbè Se poi apriamo una mano Del genere Se lui non ha scarto Di primo Ragà E non è combo Ragà È Yagmoth Eh ma questa partenza Questa partenza È tanta roba Però per noi Quale Sherry Quale Che cosa L'impresa sul primo canale Mi sono perso Un pezzo Cosa Io in keeper Glielo sparo Lui mi farà push Poi facciamo editto Sul Blood artist E Speriamo che lui Non topdecki Un orchetto Ma voglio che usi la push Su quello E non su shelly Ah però non l'ha fatto Quindi gli serve il quarto mana Per qualche motivo Forse ha letto Che abbiamo shelly Muah No Ha fatto adesso Non voleva usare il tesoro Non voleva usare il tesoro Perché Per Yagmoth Per corda Vediamo Però in teoria Doppio editto Lo manda un po' Sulla luna Se non ha Troppe creature Ma perché non sta facendo Ah lo vuole tenere Per Winkon Allora Quello Ah no No Allora sono confuso Sono un po' confuso Ai orchetto Se hai orchetto Le cose cambiano Ok Perché adesso Triggera Tre volte E tu Chi sacrifichi Però No Ho sbagliato Questo è un errore Io avrei tenuto Orchetto Tutta la vita Bisogna toglierlo Quello Perché se ha tenuto Quello in un orco Vuol dire che ha Qualche sinergia In mano Non è detto Che la vinciamo Eh Non è proprio Detto che la vinciamo Terratappata ci piace Eh vedi Che ce l'aveva La sinergia In mano E adesso Castoscelli Lui pesca 1 Push Adesso Non mi serve Questa Non mi serve Di più Lui pesca In risposta Altrimenti Perché non ha pescato In risposta Ah perché potrebbe avere Push in top Decata E quindi Attivare rivolta Mi ammazzi Shelly Certo 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 ci sta Monastery Mentor C'è in historic Si Ehm Penso che te la farò Triggerare Se ce l'hai Perché se peschi qua Facciamo comunque Più danno No Non ha sacrificato In risposta Se mi toglie Shelly Tolgo Yagmoth Non sto capendo Il piano Oppo Non vorrà Mica bloccare Con tutto No No Vuole pescare Di Sì Adesso Pesca Di Yagmoth Spaccorco Shelly È viva Così Oppo Ok Vediamo se ha vinto Vediamo se ha vinto Vediamo se ha vinto C'è tante carte Che gli fanno male Comunque Terra Buono Una Una terra Su tre carte Va già bene Ok Vuol dire Che non vuole Non vuole bloccare Con Yagmoth Quindi deve avere Dei bloccanti In mano Una removal Quindi può avere Un altro orco A tempo flash Ah E quindi Mi ammazzisce Perché non mi ha Ammazzato Shelly Scusami Ramson Non ho capito Perché non mi ha Ucciso Sheoldred Ma vince lui Eh O vinco Di all of the store Giants O la vince lui Se faceva il danno Su Shelly E poi li sacrificava È vero che Perdeva le vite Di Shelly Perdeva le vite Di Shelly Ma Ma ha dato Snapcaster Ma ha dato Combat Sì Guarda che se Mi togli Shelly Muore Yagmoth Lo sai che ho Snappo E push Vabbè Contento Tu Contenti Tutti Contento Tu Contenti Tutti Vai Fretta Non ce n'è Se mi muore Shelly Ti togliamo La wincon Secondo me Ha sbagliato Anche qua Vai A meno che sia Già pronto a vincere Adesso Ha sbagliato Anche qua Secondo me Cioè Deve avere Il terzo Or Deve avere Un altro Orco In mano Che sarebbe Il terzo Però io qui Posso fare Snappo Push Attivo All of the store Giants Adesso sono Veramente Curioso Corda Della Convocazione Da 4 Va bene Da 4 Per qualche Motivo Per Sheholdred E mi hai Dato Snapcaster Ricordiamo Sto pensando Se fare Dopo Perché io Se faccio Snappo Adesso Poi posso Attaccare Con 3 Pezzi E lui Deve Bloccare All of the store Giants Con Sheholdred Bo Io la Rischio Io la Rischio Io la Rischio Cioè Alla fine Si attiva Jagmoth Comunque Abbiamo All che Mette Pressione Cioè Mi togli Snappo Perché Non mi Togli Shelly Togli Snappo Ok Combat Vabbè Quello Dopo Quello Dopo Combat Ciao Qui T'ha Mort E Devi Riparare All Quindi Oppo A 4 A 3 Scusate Oppo E A 3 Se non ha Remove La tempo Instant Su Shelly Oppo A 3 Adesso Deve Assolutamente Risolvere Sheholdred Se no Ci muore Zura Zura Porta È molto Forte Vediamo Vediamo se è un altro Pezzo Di combo Terra Direi che facciamo The One Ring Direi Comunque lui può risolvere La nostra Shelly La nostra Shelly Adesso Sì ma pesco lo stesso Sti cazzi È un Secret Layer Ragazzi L'espansione di Doctor Who Vai Deve sacrificarsi lo Zulaport Per ammazzarci Shelly E se attiva Yagmoth Muore Perché pesca E questo è il momento Della verità Noi siamo Protetti Questo turno Ma non da Zulaport Ovviamente Provo a prendere Non so se è giusto Ma provo a prendere Visto che siamo Protetti Vinta 7-1 Ragazzi Qui abbiamo battuto Uno Yagmoth Non è andata male Questa Partita Abbiamo perso Solo da Yagmoth Abbiamo vinto Contro Mono Beh contro Maghi Vabbè Non tantissimo Nel senso che Non so se considerare La partita Contro Rakdos Contro Life Gain Contro Enchantment Tra l'altro Nuovo Con Fiorexia Ma non è andata male Anche Tasha Ci ha fatto vincere Non è andata male Direi Doppio 7 Uno con Grixis Uno con Oddio la memoria Con Jund Due Tricolor A premio Mi sembra Che sia stata Un'ottima live Ragazzi Mi sembra Che sia stata Un'ottima live 42esimo Playing points Credo Adesso guardiamo Eh giornata top Sì giornatina top Adesso vi faccio vedere La lista Tra l'altro L'ho costruita io Quindi è andata Proprio bene Ehm Aggiorniamo Il conto Delle buste Siamo a Meno 60 Tanta roba Meno 60 Devo dire Devo dire Tanta tanta roba Meno 60 60 buste Si fanno Non in troppo tempo Carne sostituibile Almeno a vedere Questa sessione Non è fondamentale Sicuramente Eh ma ci sta Sabo Non tiltate Ragazzi Smettete di giocare Per un po' Piuttosto di tiltare Davvero Esatto Stacco che è meglio Esatto Sabo Poi Piano piano Si riprende Ragazzi Questa è la lista Che ha fatto 7 Sembra buona In realtà Anche Nicole Bolas Ci ha fatto vincere Una partita Sembra un buon Grixis La mana base È perfetta Non siamo mai Stati sotto Di mana base Con i colori È stata Molto molto Forte Ehm Punto Io ringrazio Chi vedrà questo video Su youtube Se potete Giocate a questo mazzo Divertitevi E Approfitto per salutare tutti Anche chi è in live su twitch Perché stiamo chiudendo Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Io vi ringrazio Ehm Ci vediamo domani mattina Come vi dicevo Lasciate un like E condividete Se siete sul tubo E se vi è piaciuto Questa Questa lista Questo Questo evento Eccetera eccetera Un abbraccione a tutti I nuovi follower I nuovi sub I re sub Chi è tornato anche solo per salutare Chi ha speso buone parole per noi E belle parole soprattutto Un abbraccione dal vostro Baina E come al solito ragazzi Questo gioco è veramente Veramente Stupendo Più gioco a magic Più mi piace Tutto Ciao a tutti ragazzi E un abbraccio dal vostro Baina Buona serata Raidone finale E alla prossima Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti